Per me è una sorpresa assoluta questo omaggio, il premio per i tedeschi del mondo e anche l'associazione dei tedeschi del mondo che io non sapevo che esisteva. Io penso che è veramente importante questa attività perché a Brasile sono tantissimi italiani venuti dalla regione di Verona, nell'estremo sud del paese con la cultura del vino. In Italia hanno fatto l'industrializzazione di Brasile, hanno cominciato l'industrializzazione di Brasile, anche un po' al nord, nel Departamento Espírito Santo, tantissimi italiani, moltissimi perunensi che lavorano la terra, che cultivano tante cose. Forse il 80% degli italiani che hanno fatto la colonizzazione di questo Departamento sono venuti dalla regione del Veneto e molti sono belonesi. Un saluto per tutti i belonesi che abitano nel mondo, vivono ancora qui, che hanno famiglia, portoglieremo.